ciao a tutti benvenuti nel mio canale allora come promesso facciamo cartamodello base della manica la prima cosa da fare e misurare il giro manica che abbiamo sia davanti sia dietro misurando così col centimetro tutti e due insieme io questo mi ha misurato 50 centimetri in tutto allora questa misura 50 cm devo togliere 4 cm meno 4 cm è una regola fissa c da 46 46 diviso per due c da 23 23 e la misura su cui baseremo nostro cartamodello prendo una carta e la piego in due bene io riciclo questa carta regalo una linea circa 5 cm lontano dal bordo solo per darci la possibilità se vogliamo aggiungere le linee della cucitura se qualcuno vuole metterli da questa linea faccio un'altra linea a 12 cm è una misura standard anche questa che potrebbe anche variare dipende dalla tipologia siccome io faccio una una taglia tra una s una m 12 va benissimo si potrebbe fare di meno se una s un centimetro in più per una m e così via però non si supera al 14 cm faccio una linea a 60 cm io normalmente faccio le maniche con 60 cm una è una misura standard anche questa che si può cambiare dipende da da persona a questa misura e del gomito e circa 38 cm dal dalla linea iniziale in questo cartamodello non ci serviva serve solo se vogliamo allargare il polso della manica allora adesso ci serve il 23 cm che abbiamo preso partendo da questo punto che chiameremo a faremo una linea di 23 cm che combaccia con la linea del 12 cm a 23 metto un punto disegno la lei la linea e questa linea la divido in quattro parti uguali prima la metà poi le due parti uguali le taglio anche quelle le misuro metà faccio metà lascio apposta il video completo così si capisce meglio evidenzio e punti che ho disegnato al primo punto faccio un centimetro sopra al terzo punto metto un centimetro sotto quello della metà rimane uguale attacco al punto a al vento dal punto di mezzo e faccio una linea così come nel disegno proprio le attacco insieme e ci danno la curva del del giro manica e siccome il giro manica di dietro è più grande di un centimetro mettiamo un centimetro al metà e poi attacchiamo i punti dall'ultimo punto fino al punto a come nel disegno ho misurato solo per prendere la misura del gomito che non ci serviva in questo in questo cartamodello fate finta di niente nel polso invece ho messo 12 centimetri si potrebbe si può fare anche di più o di meno io ho scelto di fare 12 centimetri attacco il punto della fine del giro manica al punto del polso le linee non devono mai essere proprio proprio dritte dritte si fa una leggera curva fino alla fine adesso metto bene la linea e dopo taglio volevo velocizzare questa parte qua però non sono riuscita taglio prima il polso poi tutte le linee stando attenta a tagliare nella parte del giro manica la linea ultima del dietro della manica ecco qua taglio proprio quella l'ultima perché girando il foglio aprendo il foglio taglieremo solo la parte quel centimetro nella parte del davanti così abbiamo il davanti più piccolo del dietro è questa proprio la differenza tra il davanti della manica del giro manica e il dietro del giro manica e la nostra manica è quasi pronta mettiamo le linee di la linea dell'attaccatura delle spalle e questo è il davanti e questo dietro metto due puntine per per ricordarlo e poi metto un punto proprio alla metà adesso ho tutti tre ho il davanti il dietro e la manica anche quella è una taglia tra una S e una M e il nostro cartamodello è pronto nel prossimo video faremo il taglio e il cucito della giacca ciao alla prossima